Accanto a me sarò Lentizia, proprietaria del negozio commerciale Segue, qui in Corso Umberto Mazzara del Vallo. Da un paio d'anni a questa parte lamenta problematiche inerenti appunto ai cattivi odori che fuoriescono dai tombini di Corso Umberto, nello specifico quello che c'è proprio qui di fronte al negozio. Avete fatto richiesta al Comune? Buongiorno a tutti. Noi abbiamo fatto la richiesta con il Comune due anni fa. E' da due anni che noi aspettiamo che qualcuno gentilmente venga a pulire questi tombini. Quest'inverno abbiamo avuto dei disagi che per la forte pioggia, ma non si è visto nessuno. Ora che sta per iniziare la bella stagione c'è tanta gente che passeggia, che la costumberto ne vale, come dice anche il sindaco del suo salotto, che a noi che fa piacere con la strada chiusa, la gente passeggia, guarda le vetrine e tutto. Però che nello stesso tempo che ci sia un po' di pulizia, un po' di igiene, con questo caldo la puzza è terribile, scarafaggi che escono, cattivi odori. Anche la gente che passeggia non si può prendere anche un caffè o fermarsi per le vetrine. Secondo me è una vergogna per noi cittadini. Quindi faccio questo appello sperando che qualcuno magari mi aiuti. Questo problema infice anche a livello commerciale nel suo negozio? Anche, soprattutto. Cioè la gente non si sofferma perché si ora ma c'è cattivo odore, butto acqua, butto acidi, ma non concludo niente. Quindi speriamo che qualcuno ora si stia un po' da fare. Oggi avete contattato anche i vigili urbani, cosa vi hanno risposto? Hanno risposto che prima dobbiamo chiamare ai carabinieri, i carabinieri si sono messi a ridere, i vigili urbani sono troppo impegnati. Poi ci hanno detto di chiamare l'ufficio del comune, che sono loro che si occupano. Comunque, lo scarica banile, che ancora non abbiamo nessuna risposta. Quindi facciamo un appello al sindaco. Ma io non è che ce l'ho contro il sindaco, io voglio soltanto una cosa, è di aiutare. E se facciamo delle richieste, un motivo c'è. Soprattutto ora che sta per iniziare il caldo, i tombini, i gigamenti devono essere disinfettati e puliti. Topi, scarafaggi e quant'altro. Quindi non chiedo altro.